È un anno che non ho più un attacco. Da quando prendo le pillole regolarmente sto bene, mi sento bene. Ho il pieno controllo. No. Solo che è stato uno di quei giorni che, sai, ho deciso un sacco di cose. E poi le ho lasciate perdere e poi ci sono tornato solo. Sicuro che adesso venga giù il cielo. Mi sono convinto per sempre. Per altri momenti. E poi siamo in ecstremi. Ancora. Grazie a tutti.